Faraoni, verticale, la prende Kevin Lasagna, movimento di Simeone, può puntare Lasagna, ancora Lasagna, limite, Lasagna! Che gol! Kevin Lasagna è 2-0 Verona al 14esimo! Kevin Lasagna Gelato l'Olimpico! Perisic, tocco dietro Cialanolu, Correa! Correa, 2-0 Inter, piazza il destro, il Tuku, Joaquin, Correa! Bayran, si muove Paltazzi, pallone che arriva invece per il piazzato di Leo Stulaz! La sblocca Lempoli in vantaggio al Ghevis con il secondo gol in campionato di Stulaz! Matteo Politano, che sprinta sulla corsia centrale, possibilità di calciare in porta! Il vantaggio del Napoli al quarto minuto del primo tempo, grande soluzione individuale e vantaggio dei partenopei, 1-0 Napoli! Udoji, si muove dello feo, quindi porta di un uomo, Udoji! Sotto l'incrocio! Che gioiello! Notte fonda per la Salernitana! Fola altissima! L'Udinese di Cioffi, 0-3 in 42 minuti! L'Udinese di Cioffi, 0-3 in 42 minuti! L'Udinese di Cioffi, 0-3 in 42 minuti!